Alessandra Clemente ha portato la mia linea, c'è stata concordata, l'intervista di Alessandra è stata da me voluta, che fosse lei, c'erano e ci sono tante opzioni, però questa mi sembra una molto interessante, anche per far rivivere l'area di Castel Capuano, Porta Capuana, la parte bassa di Via Tribunale, Via Vetro Colletta, poi interpretarla non semplicemente come una mostra di vittime della criminalità, ma un messaggio forte che dalla morte si passa alla vita, alla dinamicità, al riscatto, all'antica murra delle storie vere, un po' come la storia di Alessandra e di tanti altri che potevano scappare, potevano essere messi nell'angolo, potevano provare rabbia per i figli di questa città e invece stanno donando amore e impegno civile per Napoli, io così lo vedo, non lo vedo come un luogo della morte e del cimitero, che è chiaramente anche un luogo della memoria, del ricordo, che deve essere sempre vivo, ma un luogo dinamico in cui si esercita l'antimafia dei fatti e non quella solamente delle celebrazioni. Chiederai di accelerare sul posizionamento anche al Ministro, ti spenderei anche col Ministro per accelerare queste operazioni? Assolutamente sì, abbiamo già fatto un passaggio come comune col Presidente della Corte d'Appello, che poi è il Presidente della Fondazione Castel Capuano, dove abbiamo raccolto entusiasmo, interesse, vogliamo stare in prima linea e farò dei passaggi col Ministro, col Capo di Gabinetto, che tra l'altro è un magistrato napoletano, credo che si può fare presto e bene.